Ciao ragazzi, oggi siamo su questo gioco SCP Secret Laboratory, non quittare il video perché questo gioco è bellissimo, non ho idea Allora, praticamente noi dobbiamo in questo gioco Ok, sono uno scienziato In questo gioco è un gioco roleplay, quindi voi dovete immedesivarvi nel vostro Immedesivarmi 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 Dovete, vabbè, vi dovete immedesivarmi Invede... Non mi ricordo come si dice la parola Immedesivare Immedesivare Immedesimare Immedesimare Nel... Nel personaggio e dovete fare quello che il personaggio farebbe Capito ragazzi? Dovete, tipo io sono uno scienziato adesso E dovrei fare quello che farebbe uno scienziato, quindi Andiamo in giro e Andiamo Dove che ha boccia da andare? Corra, corre, corre, non è bel posto lì Come non è bel posto lì Cos'era quel rumore? What is that? What the fuck is that? Porca puttana Porco due Via, 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 via Pronti, pronti, pronti Stai nella merda Porco due Non voglio morire Bro Ah regà, fatemi entrare Porco due No, no, regà Non aprite Siamo morti No, regà No, moriamo se aprite Regà, se aprite moriamo tutti Moriamo tutti se apriamo Non aprite Regà Non vi azzardate ad aprire Allora, allora Allora, praticamente bro Praticamente se esci muori Ecco cosa devi capire Ecco, ecco Guarda Esatto Vai via Io ti guardo Ti guardo attraverso la porta Vuoi andare qui Guardarla Perché no Porca puttana Ha scoreggiato Secondo me Ha fatto la cacca per te No, doveva andare Esatto Doveva andare in bagno Ragazzi Doveva andare in bagno Vabbè, oh, regà Anche lui è un boss Sinceramente Ma la potremmo chiudere qua dentro Ora potremmo chiudere qua dentro Sì, sì No, eh Se ci proviamo moriremo tutti Ok, raga Vi do tutto perché Mi devo andare Ah, grazie Ho l'endovena L'endovena Yeah, che bello l'endovena Oh me Regà Regà È il momento provizio C'ho un medikit in più A qualcuno serve L'endovena Che bello l'endovena Mi sento fortissimo Cazzo Ma regà Moriremo tutti Ma Qualcuno Scienziati Scienziati Ho le palle gonfie Cosa faccio? Cosa? Occhio C'è una statua di là C'è una statua di là Non ho capito Regà Via Regà Scappiamo No, non andate di là Non andate di là Porco tu No, no Non andate di là Non andate di là Non andate di là C'è la statua C'è la statua di là Che succede, regà? Ma che cazzo Ma come? Ma perché? No, là stanno sparando Non andate di là No, regà Che succede? Che succede? Ah, merda Sei vivo, meno male Ma che cazzo Che cazzo mi è successo al computer? Armiamoci Nessuno l'ha vista questa? Bella questa carta Questa, ragazzi È la carta più forte Che esiste su sto gioco Guarda Ma mi ha manettato poi quello Perché? Chi è che ha manettato? Perché ha manettato Il la sedi? Eh, io Regà Mi sono Che mi sono Entriamo tutti, regà Madonna Madonna Come mi ha manettato, scusa Mi ha manettato wireless Eh, guarda che ci sta di bello Oddio Regà, attenti Ho paura, scienziato Se fa passi Troppo bruschi E noi andiamo su in ascensore No, no, no Perché? Perché? Che c'entro io? No, no, no Ragazzi, no, no Veloce, scappa Scappa, scappa Scappa Veloce Veloce Apri Apri Chiudi No, no, regà No Chiudete 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 Porco tu No, regà No, regà Siamo al capolinea Siamo al capolinea Allora, aspettiamo qua Aspettiamo qua Esatto, bravi Appena lui sale No, scendiamo Cazzo, arrivate qua Arrivate qua Andate qua Venite qua Venite qua Porco No No, regà Ci ha inculato Ci ha inculato il bro Ah, regà Siamo respawnati Ah, regà Siamo respawnati Sono un NTF Nienta Let Fox Siamo un poliziotto Praticamente Le forze speciali Allora, praticamente Dovete capire Che gli NTF Prima di iniziare Devono fare il briefing Ovvero che c'è il comandante Che è questo qua E deve fare Deve dare gli ordini Ci mettono Ci mette 30 secondi Adesso sentite Ecco, sentite Che dà gli ordini Possiamo andare Possiamo andare Ragazzi Possiamo andare Io scusi Mi hai spiegato Non saltare Bene Tutti dentro Mi hai spiegato Qua se salti Ti ammazzano La famiglia Ragazzi Praticamente Ok dai Bene Procediamo Bene Mi son fottuto La carta del capitano Con questa carta Posso andare Dappertutto Praticamente Tranne da due parti E basta Mannaglia Ma che cazzo Chi è andato Qua dentro Chi cazzo è che Va schiuso fuori Ah Bella No rega Statua Ma rega E' scemo E' scemo Meno male che non ci ha visto Non mi ha visto Meno male Ah rega C'è sta uno Ah è morto 173 Quella ha stato là Ragazzi 173 Porco 2 Ma come non sparate E' ostile No non sparano Non sparano Non sparano Demariamo un po' Vabbè Ma va va Gula Mi è si aperto Ah sto Ma Fanno Che cazzo Mi si è aperto Il menù del Gesù Cristo Mi si è aperto Ah rega Io spero che il video Vi sia piaciuto Se così fosse lasciato Un bel like E' un po' confusionario Lo so Però è divertente Fidatevi E' divertente Cioè A me piace giocarci Io vi consiglio di scaricarlo anche voi Si chiama SCP Secret Laboratori Comunque Noi ci vi chiamo Come se fate un prossimo video Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se non lo avete fatto Mi raccomando Dai ragazzi Ciao Ciao